Come anticipato in apertura l'emergenza sanitaria che ha convolto il nostro paese ma che ancora affligge molte nazioni nel mondo ha portato tutto un clima di incertezza e di conseguenza anche l'inizio di una crisi economica. Proprio in questo clima durante il lockdown molte attività commerciali ed societarie hanno visto un notevole rallentamento se non addirittura una totale chiusura e questo ha convolto tantissimi settori dell'economia. Di conseguenza è facile prevedere che il trend futuro porterà ad un aumento degli NPL ovvero degli stock di NPL vada a dire dei crediti deteriorati. Probabilmente all'interno dei bilanci delle banche si avrà un aumento dei crediti che in futuro dovranno essere svalutati. Ne parleremo proprio oggi in questa puntata con l'avvocato Brigida Troilo che saluto ed è qui al mio fianco in studio ed in collegamento invece abbiamo il dottor Gaetano Lattanzi che è anche saluto. Buongiorno, ben trovati. Buongiorno, buongiorno a lei. Dunque io inizierei dall'avvocato Brigida Troilo. Ecco, lei si occupa nell'ambito del suo studio anche di NPL quindi sotto il punto di vista normativo e volevo un attimo chiederle, facciamo un passo indietro. Parliamo del periodo lockdown. Quali sono le criticità che sono state rilevate per quanto riguarda proprio le operazioni di NPL in essere? Eh beh, molteplici. Molteplici perché la crisi che questa epidemia ha provocato in tutti i settori non poteva non rileverarsi anche nel settore strettamente bancario e quindi nel settore del recupero crediti visto che gli NPL sono i non-performing loans, cioè i crediti deteriorati, che gli istituti bancari si ritrovano in pancia per il noto fenomeno della difficoltà non solo del corporate, cioè delle aziende, ma anche del retail, privati e pensionati, di fronteggiare mutui e finanziamenti. Le difficoltà. Nello specifico, per appunto arrivare al dunque, le difficoltà sono state, le maggiori criticità e difficoltà sono state costituite dal cosiddetto cash in court che è costituito da tutta quella somma di denaro, consistenti somme di denaro, che ricavate dalle vendite delle procedure esecutive, sono però rimaste, tra virgolette, custodite presso gli uffici giudiziari nell'ambito delle procedure esecutive intraprese per appunto il recupero di questi crediti deteriorati e non sono stati distribuiti. Perché? Perché, come è noto, le procedure esecutive hanno, anch'esse, unitamente a tutto il resto del sistema economico, subito una sospensione, non un semplice rallentamento, una sospensione provocata inizialmente da una interruzione delle attività giudiziarie, che per quanto riguarda le aste immobiliari, ha addirittura determinato una sospensione per sei mesi fino al 31 luglio del 2020, per quanto concerne ad esempio il Tribunale di Roma, presso il quale io esercito prevalentemente, ma anche Milano, fine giugno, le date sono state un po' diversificate da ufficio ad ufficio, però sostanzialmente questo è avvenuto in tutta Italia. E la sospensione delle aste ha determinato ovviamente il blocco dei tentativi dei cosiddetti esperimenti di vendita degli immobili oggetto di esecuzione. A questo poi si aggiunga anche la inevitabile carenza di liquidità che il sistema bancario si è ritrovato ad affrontare a causa della cosiddetta moratoria dei finanziamenti che il governo nell'ambito della rispettabilissima esigenza di tutela del patrimonio delle famiglie innanzitutto ha stabilito di appunto concedere delle sospensioni nel pagamento dei mutui dei finanziamenti fino a settembre. Tutto questo si è riverberato ovviamente sul sistema bancario che non ha naturalmente potuto conseguire liquidità dal ricavato delle vendite e le aste appunto bloccate da una parte e dall'altra neppure dal pagamento delle rate dei mutui dei finanziamenti che appunto sono stati sospesi. Questa situazione ovviamente ha determinato intuibili difficoltà per il sistema bancario, non così gravi, questo va detto, almeno sulla base di quello che gli analisti sostengono come la crisi del 2008 perché pare che le dimensioni di questo attuale shock che comunque il sistema bancario ha subito non raggiungerà, non ha raggiunto e non raggiungerà le conseguenze invece appunto del grande shock del 2008 grazie proprio alla maggior capitalizzazione del sistema bancario, ad una maggior strutturazione anche dei servicer dei quali le banche si servono per appunto le attività di recupero crediti. Ciò non toglie però che i numeri sono spaventosi. C'è stata una riduzione del ben 60% di aste immobiliari nell'arco di appena tre mesi. Sì, il primo trimestre del 2020 appunto ha registrato una riduzione così consistente che nei numeri è tanto. Vediamo, la ringrazio Laura, vediamo, io vorrei chiedere proprio a proposito di quello che lei ha appena detto al dottor Lattanzi. Ecco, la sua è una grande banca che opera a livello internazionale, quindi chi meglio di lei può descriverci questo scenario che si è avuto durante il lockdown? Ecco, capiamo. Quali sono le criticità che state riscontrando? Quello che ha appena detto l'avvocato Troilo rispecchia esattamente quello che anche voi avete riscontrato in questo periodo oppure ci sono delle discrepanze? Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la collega Troilo. Alcune precisazioni su certe dinamiche interne e anche gli effetti esterni. Innanzitutto dal punto di vista proprio processuale condivido, condivido quanto riferito dalla collega circa il fenomeno dei cash in court, ma allo stesso tempo devo segnalare che l'impatto maggiore non è stato tanto il tema degli incassi, ma ancora di più dello spostamento dei principali incombenti, anche a un anno, un anno e mezzo di distanza rispetto alle udienze che si sarebbero dovuto tenere durante il periodo del lockdown. Vi faccio un esempio, tutte le udienze di vendita che erano previste nel primo semestre ci sono state spostate nel secondo semestre dell'anno prossimo. Questo comporta quindi un allungamento notevole dei tempi della giustizia. Allo stesso tempo poi queste aste saranno battute in un momento di mercato probabilmente meno fruttuoso rispetto a quello che stavamo vivendo, perché il mercato immobiliare sconterà nel frattempo il fenomeno Covid e quindi ci aspettiamo che quelle aste che si sarebbero dovute tenere nel primo semestre dell'anno si terranno nel secondo semestre dell'anno prossimo, ma che in gran parte probabilmente andranno tutte deserte a seguito del fatto che saranno tenute in un momento di mercato non così positivo. Che cosa vuol dire tutto questo dal punto di vista invece esterno, per meglio dire macroeconomico, che le banche si troveranno a dover aumentare le proprie rettifiche di bilancio e come conseguenza riducendosi e mutando notevolmente il coefficiente immunitario probabilmente le banche reagiranno diminuendo i prestiti, diminuendo gli impieghi. L'altro aspetto importante che dovrebbe ancora aggravare di più la situazione, a mio modesto avviso come anche quello dell'avviso dei nostri analisti, è che, vi faccio un esempio, per quanto riguarda i mutui retail, prima casa, la mia banca ha circa 15.000 clienti in Italia. Di questi 15.000 clienti abbiamo concesso circa 1.500 sospensioni Covid a soggetti che in questo momento erano in bonus. Che cosa succederà tra sei mesi, nove mesi a questi soggetti, non ci è dato a sapere. Però, se questi iniziano a non pagare, quando la sospensione Covid terminerà, rischiamo una nuova ondata di crediti deteriorati. Ecco, anticipato un po', sì, mi lo interrotto, voleva chiudere? No, no, questa è un po' la mia prima risposta. Quindi un impatto di natura processuale, ulteriore a quello dei cash in court, quindi non solo che determinano rettifiche di bilancio importanti, quindi non solo non abbiamo incassato i soldi che ci aspettavamo di incassare, ma soprattutto non si sono tenute e si terranno tra circa un anno le aste che ci aspettavamo si sarebbero ottenute, ma soprattutto si terranno in un momento di mercato immobiliare molto diverso. Ecco, io ritornerei di nuovo all'Avvocato Troilo a questo punto, facciamo un punto un po' della situazione anche di quelli che sono gli scenari attuali e quindi andiamo a vedere in maniera molto sintetica. Vi faccio due ultime domande di chiusura, una a lei Avvocato Troilo e poi ritornerò anche al Dottor Lattanzi. Io volevo un attimo capire con lei in maniera molto sintetica, quali sono le criticità attuali di apertura e chiusura delle operazioni e se vogliamo sintetizzarle cosa si prevede in futuro? Sì, 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 l'avvio e la chiusura delle operazioni sono condizionati soprattutto dallo stato di incertezza, perché gli stessi analisti sono nella difficoltà più totale di prevedere quello che sarà lo scenario prossimo. Non solo perché la crisi emergenziale è ancora in corso, ma soprattutto perché la crisi riguarda non solo appunto l'Italia, ma addirittura tutto il mondo. Sicuramente le difficoltà maggiori dell'avvio e della chiusura delle operazioni sono legate, o meglio, devono essere affrontate con dei maggiori accantonamenti. Le banche sono costrette a fare dei maggiori accantonamenti per poter proseguire nell'attività di gestione dei crediti deteriorati, in modo tale da non trovarsi poi nella difficoltà di una svalutazione degli stessi, perché il problema è proprio questo, uno dei tanti in realtà, probabilmente quello che il sistema bancario avverte in modo appunto più grave, e cioè quello della svalutazione dei crediti deteriorati con la conseguenza, ad esempio, della impossibilità di rispettare una serie di condizionalità che il sistema normativo europeo impone, e naturalmente il rischio ancora più grave del cosiddetto accaparramento da parte dei grandi investitori esteri, che naturalmente dove trovano possibilità di rispeculazione, chiaramente sono lì prossimi ad approfittarne. D'altra parte le banche sono costrette comunque a disfarsi, tra virgolette, di questa immensa mole di NPL sempre in crescita, e quindi alla fine chi inevitabilmente si ritroverà a perdere che sono appunto le banche innanzitutto, indubbiamente il sistema bancario. Bene, io ecco volevo chiudere con una domanda veloce al dottor Lattanzi di chiusura, cosa prevederà per il futuro? Già un po' ce l'ha anticipato, una sua riflessione di chiusura. Guardi, per quanto riguarda il mondo retail, ovviamente dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere quante delle sospensioni Covid accordate diventeranno NPL. Per quanto riguarda il mondo, noi come dicevo ne abbiamo accordate circa il 12% del portafoglio, per quanto riguarda il mondo corporate, ovviamente dobbiamo aspettare i risultati delle normative di supporto che arriveranno sia da parte del governo che da parte del tramite dell'Europa. Certo è che la capacità reddituale di rimborso dei soggetti esposti dal sistema bancario probabilmente si ridurrà e qui sarà molto importante che ognuno faccia la sua parte, il governo, l'Unione Europea, ma anche le banche devono attrezzarsi per cercare di sostenere al meglio l'economia reale. Io la ringrazio, ringrazio il dottor Lattanzi per il collegamento con noi oggi, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi e ovviamente ringrazio l'Avvocato Troilo qui al mio fianco per averci accompagnato in questo viaggio diciamo almeno nella prima parte, poi naturalmente con lei ci vedremo anche nella seconda parte. Pochi minuti di pubblicità e poi rientriamo in studio con appunto come anticipato la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti. Restate qui con noi. Grazie a tutti.